Il potatore è il medico della pianta, perché quando sta a contatto con la pianta, la tocca con le mani, ci parla come fosse un'altra persona. Questa è la potatura. Quella si presenta di un modo, quella si presenta di un altro. Allora la potatura che cosa deve avere? Deve capire la pianta di che cosa ha bisogno. C'è una potatura forte, leggera, pochissima. La deve capire, come fosse una persona che è malata, è la stessa cosa. Ogni rame che si taglia ha un significato. Io sono messo a fruttare che avevo 11 anni. Poi ero un appassionato della potatura, ho frequentato dei corsi, corsi scuola per tre anni. Dopo tre anni poi abbiamo fatto il corso definitivo. E mi sono diplomato di olivocoltura e di agroemocoltura, con i pieni voti. Quindi siamo stati i primi accogliati a avere questi diplomi. Poi mi ha assunto l'ispettorata agraria per fare il campione, il campione di oliva, perché dovevano adottare tutto quel tipo di potatura che era la migliore in tutto il mondo. Prima le facevano tutte le buttature diverse, non si tagliavano legni, era tutto un globo chiuso, non respirava la pianta, si toglieva molto secche perché era chiusa. Quando si imposta una piantina piccola, si imposta a due, due rami, per un semplice motivo. Perché due rami tenevano poco legno e molta foglia. Poi la pianta dell'agrume, tenevano la durata dell'uomo, tale e quale l'uomo, 80 anni, 70 anni, dipende del terreno com'è, ha la durata dell'uomo, tale e quale. E allora, facendo questa, partendo da due, il legno diventa una cavalletta e l'acqua non si ferma mai nel tronco, scende. E per quel motivo la pianta non muore, può muore qualche altro motivo, ma non per quello. Ogni pianta ha l'ingresso, io quando faccio così, vedi due da me, qua si entra di qua, tutte le piante sono all'ingresso, qua si entra di là, io le capisco e giri di dove, quando è salita sulla pianta. vedi? Tutta a due, come ti dicevo. All'ingresso è tutta ricca di foglie, non è che avrà l'ingresso, è tutta ricca di foglie. respira l'aria e senza l'ingresso. E questo è un portale interverso. iniziamo, effetto è proprio un portale interverso. E questa tratta è un portale interverso. E perché ho comprato un portale interverso io non Moving di P laboratory, vedi può essere amari, qui perdono al防giu il Fallo, non si, sono un portale interverso tin. Grazie a tutti.